Avevamo lasciato Napoleone nella sua creazione di un grande impero europeo, seppur instabile e governato in maniera abbastanza inefficace dai suoi parenti, ad aver comunque sottomesso tutta l'Europa continentale. L'unico grande nemico ancora non sconfitto rimaneva l'Inghilterra. E allora Napoleone, consapevole che la flotta militare francese non era all'altezza di quella inglese, pensa di compire l'Inghilterra nei suoi interessi commerciali. Ricordiamo che l'Inghilterra era la superpotenza monopolista nel commercio internazionale. Per questo Napoleone nel 1806 istituisce il blocco continentale a commercio con l'Inghilterra. L'ambizioso piano di Napoleone prevedeva di pattugliare tutte le coste della lunghissima penisola europea per evitare che le flotte inglesi potessero commerciare con l'Inghilterra. Questa impresa provocò il malcontento di tutti i paesi europei. Ricordiamo che in Inghilterra c'era stata la rivoluzione industriale, i prodotti inglesi erano ben fatti, poco costosi e ormai avevano invaso il mercato di diversi paesi che proprio per il prezzo abbordabile dei prodotti inglesi non avevano sviluppato una politica industriale. L'esempio più emblematico è la Russia, un grande gigante ma molto arretrato che comprava praticamente tutto dall'Inghilterra. Anche la stessa borghesia francese che commerciava attivamente con l'Inghilterra rimase un po' scontenta di questo provvedimento di Napoleone. Si creavano perciò dei fenomeni di contrabbando e di mercato nero lungo tutte le coste dell'Europa. Quindi la marina francese era impegnata ad evitare che questi contrabbandieri sbarcassero le merci inglesi lungo le coste. Vedete quanto sono lungo le coste europee, era un'impresa veramente incredibile. Infatti mantenere il blocco continentale era molto costoso e logorante perché prevedeva lunghi tempi di pattugliamento su una superficie, su un perimetro sterminato. La Russia e la Prussia sono particolarmente colpite da questo blocco perché la Russia aveva delle attività produttive pressoché inesistenti e comprava tutto dall'Inghilterra. La Prussia, come potete vedere dalla cartina, dominava la costa del Mar Baltico, quindi organizzava i commerci che dall'Inghilterra arrivavano appunto nel Mar Baltico per smistarli verso i paesi del nord Europa. Quindi furono duramente colpite da questo provvedimento. Napoleone era consapevole che la Russia e la Prussia avevano subito un danno da questo provvedimento. Quindi, firmando il Trattato di Dilsit, che si trova qui all'altezza della Lituania, nel 1807, la Francia sancisce il suo predominio sull'Europa centro-occidentale. Ma la Prussia e la Russia vengono risarcite dei danni subiti dal blocco continentale e per cui esercitano il loro potere la Prussia sul Mar Baltico, la Russia su tutti i paesi orientali e sul Mar Nero, conteso all'epoca con l'impero ottomano. In cambio, Prussia e la Russia avrebbero supportato la Francia nelle operazioni di pattugliamento delle coste che erano veramente impossibili da sopportare per un unico paese. Nonostante questo periodo di fervente impegno di patti diplomatici e di concordati con la Russia e con la Prussia, l'Austria, vedendo la Francia impegnata in questa logorante impresa del pattugliamento del blocco continentale, nel 1808, tenta di mettere insieme una quinta coalizione. Napoleone se ne accorge e l'Austria viene immediatamente punita. Napoleone occupa con la sua armata la città di Vienna. Vedete in questa immagine proprio il sindaco, il maniscalco di Vienna, che gli offre le chiavi della città. Ma Napoleone era stanco di fare la guerra. Quindi, anziché continuare a guerreggiare con gli austriaci, chiede all'imperatore d'Austria la mano della figlia, Maria Luisa d'Asburgo. Così Napoleone si sarebbe imparentata con la famiglia più prestigiosa d'Europa e avrebbe nobilitato ancora di più il suo ruolo di imperatore. In realtà Napoleone punisce in questo modo anche la sua moglie, Josephine de Boarnier, meglio nota come Giuseppina, che per colpevole di non darmi un'erede viene scacciata, viene diseredata, viene, Napoleone, divorzia dalla tua moglie precedente e sposa Maria Luisa d'Alborgo, che effettivamente gli dà subito un figlio, Napoleone II, che morirà però in giovane età e non avrà molta fortuna. Quindi Napoleone adesso è imparentato con la più antica dinastia d'Europa, ha messo a posto la situazione diplomatica, facendo dei patti con Prussia e Russia e sposando la figlia dell'imperatore d'Austria. Quindi la situazione sembra abbastanza mettersi. In più ha anche un'erede che gli consente la continuazione della dinastia. Quindi le cose sembrano essersi messe bene da Napoleone. Ma la Russia non ce la fa proprio a sostenere, nonostante, come vedete nell'immagine, la stretta di mano tra lo Zara Alessandro I e Napoleone, non ce la fa proprio a sostenere il blocco continentale. Perché la Russia è un paese molto redrato, con un sistema produttivo inefficiente e inefficace. Per cui lo Zara Alessandro I ripristina la libertà di commercio con la Gran Bretagna. Questo fa infuriare Napoleone. Napoleone risponde organizzandolo al più grande esercito che avesse mai calpestato il suolo d'Europa. In realtà Napoleone molto probabilmente aveva già intenzione di occupare la Russia. Ma questa impresa non riuscirà a Napoleone e come vedremo poi anche l'anno prossimo nella Seconda Guerra Mondiale, neanche Hitler con le sue super corazzate tedesche riuscirà nell'impresa. Quindi vedete questo sterminato esercito, formato da 600.000 uomini, parte nel giugno del 1812 dai territori della Prussia, verso la Russia. E vedete nella linee, nelle frecce qui continue, che l'avanzata dell'esercito francese fu quasi incontrastata. L'unica battaglia che dovettero sostenere, prima di arrivare a Mosca, fu il 7 settembre, la battaglia di Borodino. Napoleone voleva arrivare a Mosca prima della fine dell'estate, in modo da svernare poi a Mosca, occupare la Russia e ritornare in Francia da trionfatore. La battaglia di Borodino fu vinta abbastanza facilmente da Napoleone. Tutto questo era molto strano. Napoleone era un grande generale, si era accorto che c'era qualcosa che non andava. Infatti, era questa la famosa tattica della terra bruciata, messa in atto dal maresciallo russo Kutuzov. In che cosa consisteva? L'esercito russo continuava ad arretrare mentre i francesi avanzavano. Mentre arretrava, bruciava villaggi, campi, tutti i possibili rifornimenti per l'esercito francese. Perché? Perché voleva intrappolare a Mosca Napoleone, in attesa dell'arrivo dell'inverno. In effetti, quando Napoleone arrivò a Mosca, trovò una città deserta e in fiamme. E quindi, una volta stando così la situazione, Napoleone capì che era tutto un grande tranello. Infatti, Napoleone, capito il tranello, ordina l'immediata ritirata. Ma l'inverno è alle porte. La strada di ritorno è priva di ripari, tutti i villaggi erano stati bruciati, e anche di rifornimenti e di cibo. Tutti i campi e tutte le scorte granai erano stati bruciati. I cavalieri cosacchi, guidati dal generale Kutuzov, appostati nei boschi lungo la ritirata dei francesi, uscivano come orde, come branchi di lupi, attaccavano la coda dell'esercito francese e ritornavano nei boschi, erodendo piano piano questo formidabile esercito. A resto ci pensò l'inverno. Pensate che solo nel passaggio del fiume Beresina, come vedete in questa immagine, morirono per il gelo, per il freddo, migliaia di soldati francesi. Fu una ritirata drammatica, in cui i soldati, per la disperazione, per la fame e per il gelo, compirono anche atti di cannibalismo. E di quel grande esercito, ricordate 600.000 uomini, tornarono a Parigi 18.000 soldati, affamati allo stremo delle forze, astento riconosciuti da loro familiari, per come erano ridotti. Era stata la più grande sconfitta di Napoleone, in cui l'esercito russo, senza perdere neanche un uomo, era riuscito a mettere sotto il più formidabile generale, il più formidabile esercito che l'Europa avesse mai visto. Ma i guai di Napoleone non finiscono qua. Infatti, tornato in Francia, lo attendeva già la Sesta Coalizione, Prussia, Austria, Svezia e Russia. Lo scontro avviene nella Confederazione del Reno, l'attuale Germania, presso la città di Lipsia. Nel 1813, Napoleone viene sconfitto definitivamente. Deve abbandonare il trono abdica, come potete vedere nel dipinto non era felicissimo di questa sua abdicazione, il 6 aprile del 1814, e viene esiliato nell'isola d'Elba, di fronte alle coste della Toscana. Ma solamente meno di un anno dopo Napoleone fugge in direzione della Francia, quando sbarca nei pressi di Marsiglia, trova ad attendere i suoi soldati che avrebbero dovuto respingere il suo arrivo e invece, come vedete dal quadro, si inginocchiano al loro grande generale e lo seguono alla volta di Parigi, dove Napoleone entra trionfalmente, come potete vedere da questa immagine, e regna per cento giorni. Nel frattempo, dopo l'abdicazione di Napoleone, nel settembre del 1814, si era riunito il congresso di Vienna, che ospitava tutti i paesi che avevano sconfitto Napoleone, che insieme volevano ripristinare la cartina geografica europea all'epoca precedente la rivoluzione francese. Insomma, riportare i confini europei all'epoca dell'assolutismo. Quando arriva la notizia che Napoleone è fuggito, il congresso viene interrotto. Si allestisce un esercito anglo-prussiano che muove direttamente verso Parigi. Napoleone governerà in questo periodo solamente cento giorni, fino allo scontro decisivo che avverrà a Waterloo in Belgio. Pensate che questo scontro era stato preparato benissimo da Napoleone. Waterloo si trova in una conca naturale attorniata da colline. Napoleone avrebbe affrontato l'esercito anglo-prussiano in questa piana, mentre i dragoni francesi schierati sulle colline sarebbero intervenuti a chiudere in una morsa mortale l'esercito nemico. Il problema è che Napoleone non aveva visto le previsioni meteo. Infatti, quel giorno ci fu un violetto acquazzone che riempì di fango impantanò tutta la piana di Waterloo, quindi, quando la cavalleria francese intervenne, rimase bloccata in questo pantano. E Napoleone fu sconfitto. Sconfitto il 18 giugno del 1815, viene esiliato nel posto più lontano del mondo, un'isoletta sperduta nell'Atlantico, l'isola di Sant'Elena, a metà strada tra il continente africano e quello dell'America del Sud, da dove era impossibile fuggire. Napoleone inoltre era controllato a vista da soldati inglesi che presidiavano tutti i suoi passi. Lo vedete che non era felicissimo sullo scoglio di Sant'Elena. Napoleone morirà il 5 maggio del 1821 in solitudine, in questa sperduta isoletta dell'Atlantico, dopo aver dominato il mondo. Ma, come vedremo nei capitoli successivi, il passaggio di Napoleone non rimarrà solamente un ricordo, ma influirà sulla futura storia di Europa. Arrivederci.